Ripresentare lo stesso progetto è un affronto allo Stato e ai cittadini, così le associazioni ambientaliste espongono le loro osservazioni in opposizione al progetto della CMI Energia per la coltivazione del giacimento di gas naturale Colle Santo, che ricade nell'area del lago di Bomba in provincia di Chieti. 3.700 km2 di estensione e circa 60 volte la quantità di acqua presente nel lago artificiale di Bomba. Un progetto questo già bocciato alla Forest Oil dal Consiglio di Stato dopo una lunga battaglia legale. Oggi la nuova richiesta da parte di un'altra società, stesso progetto, stesse preoccupazioni per ambiente e popolazioni che vivono in quei luoghi altamente fragili. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato che è inequivocabile sulla non sicurezza dell'impianto, noi come legambiente WWF e gestione partecipata del territorio ci siamo avvalsi di un gruppo scientifico di tutto riguardo con quattro geologi, un fisico, un chimico, due medici ricercatori e due biologi. Si è ristudiato nuovamente il progetto e nuovamente abbiamo dimostrato anche in maniera scientifica che non è cambiato nulla dal primo. Le perplessità degli ambientalisti sono le stesse della Regione Abruzzo rappresentata dal sottosegretario alla Presidenza Mario Mazzocca che ha annunciato la richiesta di un'inchiesta pubblica presso il Ministero dell'Ambiente, il controllo ed eventualmente la revoca del permesso di ricerca. Quali rischi comporta questo progetto? Il rischio principale di questo progetto è il crollo della diga e l'attivazione di frane a seguito dell'estrazione del gas e del possibile fenomeno della subsidenza. Oltre alla presentazione delle osservazioni abbiamo annunciato due atti molto importanti che sono una diffida al Ministero dell'Ambiente affinché non dia parere favorevole su questo progetto e una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché venga definitivamente ritirato questo permesso di ricerca e si ponga una parola fine definitiva allo sfruttamento del giacimento di gas di bomba.